1941, Seconda Guerra Mondiale. Anche Italia e Germania dichiarano guerra agli Stati Uniti. 1994, Yeltsin invia 40.000 soldati nella Repubblica Cecena per impedirne la secessione. 1909, Guglielmo Marconi insignito del Premio Nobel per la Fisica. Commenta il Fatto del Giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Oggi parlerò degli accordi di Mastro. 11 dicembre 1909, Guglielmo Marconi viene insignito del Premio Nobel per la Fisica. L'Accademia di Stoccolma conferisce il riconoscimento allo scienziato italiano e al tedesco Karl Ferdinand Braun. che con la Fisica cora un'altra parte scorna per lup Cameron Capote Olusconi